Ciao a tutti cari amici e bentrovati con una nuova canalizzazione del pensiero. Io innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi perché il canale sta crescendo moltissimo e quindi grazie a voi che andiamo avanti, quindi io vi ringrazio infinitamente per il tempo che dedicate. Sono felice che vi piacciono gli interattivi che faccio. Se avete qualche richiesta sapete che potete farmi scrivere nei commenti. Io ogni tanto nel pomeriggio, oltre alla canalizzazione del pensiero, magari faccio anche altri interattivi. Ricordo, come al solito, che sono stese generali, quindi io adesso ho preparato queste due varianti, la variante verde e la variante nera, e ricordo sempre di prenderle sempre molto con le pinze. Può esserci un piccolo messaggio, per alcuni può risuonare tutta la stesa, per altri solo magari una frase. Io ricordo inoltre che sono validi dal momento in cui vengono visti e per gli uomini che guardano basta che giriate il video, cioè che pensiate come dall'altra parte, come se dall'altra parte ci fosse una donna. Allora, vi lascio qualche secondo, scegliete la variante che più vi attira, quindi pensate alla persona che avete in mente e scegliete ad istinto. Molto bene, io passo subito con la variante numero uno, cioè coloro che hanno scelto il simbolino verde. Andiamo a vedere, prima variante, che cosa ha da dire questa persona. Mi sento creativo, sono pieno di energia, florido, ho finalmente ritrovato la mia voglia di vivere, la mia creatività, la mia capacità di donare agli altri anche. Mi sento un tumulto di emozioni, e questo fa sì che il mio mondo improvvisamente sia diventato vivido, non come prima. Che stavo in bianco e nero, che vivo la mia vita giorno dopo giorno, senza sapere cosa volevo, dove andavo, e invece adesso eccomi qua. E non è merito mio, sei tu che mi guardi con quegli occhi, con quelle labbra, e io resto estasiato ogni volta che ti punto gli occhi addosso, perché sei così, non so neanche io come descriverti, sei così fantasiosa, semplice e solare, e mani gioia da tutti i pori della pelle, e mi piaci così tanto, perché rendi la mia vita bella, diversa. Nonostante ciò, cerco di andare lentamente, un passettino alla volta, perché sai, nella vita finora ho subito tante sofferenze, tante persone mi hanno ferito, e quindi mi sono costruito una corazza, bella grossa, e adesso uscirne è davvero molto difficile. Perché quello che ci sta dentro è il dolore, e le ferite che mi hanno causato nel tempo, ormai le conosco, in qualche modo le so gestire. Ma uscire da questa situazione io non so cosa trovo da te. Io mi sento attratto da te, vedo che sei una persona, una bella persona, e quindi mi sento istigato ad uscire da questo guscio. Ma comunque i passettini che faccio sono pochi, lenti. Inoltre spero che comunque quello che andremo a costruire sia forte, abbia delle basi solide. E per fare questo ho bisogno di andare lentamente, un passettino alla volta, di costruire con calma. È il momento che io prendo una nuova direzione nella mia vita, ne sono conscio, ma sempre e lentamente, una goccia alla volta, prima o poi il vaso si riempie. Imparo a conoscere te, imparo a conoscere me stesso in questa nuova situazione, al di fuori di quello che è il mio guscio. E prima o poi diciamo che ho intenzione di andare avanti, almeno vorrei farlo quantomeno. Tu mi emozioni, ma non sono emozioni impetuose. Sono emozioni, come posso dire, che si espandano lentamente. Tu invece sei un uragano, sei un uragano e mi travolgi. Ma io cerco di mantenere la calma, perché ho paura, perché non so dove mi portano queste emozioni, mi spaventano. Al momento mi sento un po' frenato, non solo perché temo di soffrire, ma perché probabilmente sto mettendo in paragone due situazioni diverse. La mia famiglia, con te, o anche semplicemente storie del passato, che non sono andate a buon fine. Anche con persone riesco a paragonarti, che magari nella vita mi hanno ferito, mi hanno trattato male. Alla fine sono rimasta con un pugno di bricciole, dopo aver dato tanto e tanto. Nella mia mente io mi rendo conto che siete due persone completamente diverse. Il problema è che io continuo a pensare, vedo in te magari alcune caratteristiche che aveva un'altra persona, che mi ha ferito, oppure temo che la situazione vada verso quel tipo di relazione. Sento che ho bisogno di guarire le mie ferite, ho bisogno di riequilibrare la mente e lo spirito. Il cuore sta ardendo per te, io sto cominciando a provare dei sentimenti, però la mia mente e quello che è il mio istinto mi frenano. Mi sento preso da te, io vorrei venire, ho lo sguardo diretto verso di te, ma tutto il resto mi trattene, mi tira indietro. Ho bisogno di riequilibrare, di capire, e mi serve tempo, mi serve pazienza da parte tua, perché anche col tuo modo di essere, con la tua dedizione nei miei confronti, io forse nel tempo capirò che le mie sensazioni, le mie paure sono solo tali e riguardano il passato. Va bene, variante 1, io vi ringrazio per aver seguito la stesa, vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale, ed attivare sempre la campanellina, così vi arrivano tutti i prossimi video. Se volete contattarmi, trovate sotto la mail, tarot, tarot, chiocciola gmail.com, io adesso passo alla variante, del gruppo numero 2, chi ha scelto il simbolino nero. Allora, variante numero 2, la mettiamo qua, dovreste vederla. Allora, per coloro che hanno scelto il gruppo numero 2, andiamo a vedere che cosa prova sente questa persona, come si sta ponendo, che atteggiamento ha nella vita. Al momento, la mia vita è un enorme prato che non ha nessun tipo di possibilità di crescita, è sterile, sabbia, sabbia e ogni tanto qualche piccolo cespuglio, è come se guardassi all'orizzonte e non vedessi niente, vedessi solo aridità, terra, terra, e ogni giorno inizia e poi tramonta e non cambia nulla ed è sempre così. Quel poco di verde che c'è all'interno della mia vita in qualche modo me lo sono costruito con tanta fatica, ma non ho più stimoli, non so più dove sto andando e quello che sto facendo attualmente è riflettere su questa situazione. Sto cercando di cambiare punto di vista invece di concentrarmi nelle piccole cose, sto cercando di ampliare la mia visione, guardare più in là da un'altra altitudine perché le possibilità io sono certo che ci siano però probabilmente sto guardando dal punto di vista sbagliato e allora devo innalzarmi e cercare di fare un quadro generale della mia vita, della mia situazione. Un po' è anche colpa mia perché qui io sono pigro. Mi sono rinchiuso in questa situazione di comfort che in realtà sento che non è poi così un comfort perché ho la necessità di andare oltre, di avere degli stimoli, di cercare anche qualcosa di nuovo, qualcosa che mi soddisfi veramente ma non c'ho voglia, non c'ho voglia perché nel tempo ogni volta che ho provato a fare qualcosa probabilmente ho preso delle bastonate in qualche modo sono stato ferito e adesso che ho trovato un po' di calma, di tranquillità anche se non è il top, il 100% di quello che desidero in fondo me ne sto qui e guardo gli altri cosa fanno, dove vanno, cosa hanno di bello nella vita e mi accontento un po', per il momento va bene così ma sogno, ho la mente che va altrove, io vorrei avere una relazione sentimentale, vorrei poter amare, mi sento così bene quando fantastico, quando proietto e sogno una relazione importante, una donna, un uomo che mi ami, quella persona che hai sempre voglia di avere tra le braccia, che ti aspetti che venga a casa la sera e che ti faccia una coccola, un gesto affettuoso, perché adesso comunque mi sento misero a livello sentimentale, non mi sento appagato, e sto lì, è fantastico, perché in fondo mi sono creato il mio mondo e questo sogno mi coltiva l'anima, mi coltiva le emozioni, perché la realtà è molto più brutta, è molto più arida e sogno, insomma, quel momento in cui potrò uscire, potrò, avrò il coraggio di uscire, lo smetterò di impigrirmi, di autocensurarmi le opportunità e prenderò il volo, spicherò il volo e finalmente proverò a conoscere, a intraprendere una nuova situazione e in mezzo a tante persone ci sarà pur un'anima fatta per me, una persona che mi vorrà nella vita, lo so che è difficile da trovare perché siamo in tanti e ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha la propria personalità, ma prima o poi questo volo lo spiccherò e finalmente troverò l'amore, troverò la serenità e avrò finalmente il cuore caldo, appagato e potrò guardare negli occhi la persona che amo come si fa nei film, ma soprattutto potrò io stesso guardarmi allo specchio e dire finalmente sei arrivato, finalmente hai raggiunto quello che volevi. Va bene, variante 2 io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di mettere like ed iscrivervi al canale ed attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche per i prossimi video. Io vi do un abbraccio, vi auguro una buona notte e vi aspetto domani. qui iscriviamo i prossimi, qui iscriviti al canale o canale